La nostra azienda, Masoni in particolare, è un'azienda che esiste da fine 1800, la facciamo risalire al 1885. Si occupa chiaramente di dolci tipici, toscani e senesi in particolare, come panforte, ricciarelli, cavallucci, cantuccini e vari tipi di biscotti e di torte tipiche della nostra bella Toscana. Attraverso 5 generazioni arriviamo al giorno di oggi affacciandoci al mercato estero tramite questa fiera e altre che faremo, perché il mercato estero è sicuramente un mercato dove c'è una particolare attenzione al prodotto tipico artigianale della Toscana e di Siena. Vedendone il particolare di alcuni nostri prodotti di punta non possiamo che non menzionare il famoso panforte con i figli secchi e le noci, come altri tipi di panforte, come può essere il panforte al cioccolato, anche quello molto conosciuto e famoso, abbinando proprio l'articolo panforte a un prodotto che è la cioccolata che va per la maggiore. È sicuramente un abbinamento vincente. L'unico proprio denominatore è la qualità comunque delle materie prime rispetto della tradizione masonica. Grazie a tutti.